È evidente che questi modelli di accoglienza generano tensioni e quindi vanno evitati. Noi abbiamo un modello di accoglienza diffuso sul territorio, non è certo perfetto ma sta funzionando meglio. Adesso il primo problema secondo me è quello di obbligare a fare lavori socialmente utili. Qualche ora al giorno chi viene ospitato ha il dovere di restituircela e bisognerebbe che il governo desse ai comuni e anche alla regione la possibilità di fare un'iniziativa in questo senso davvero seria, estensiva, non affidata al volontariato. Quindi questo tipo di obbligo? Questo sì, l'altro i scie sono già falliti, non capisco perché vengano riproposti. C'è una relazione al Senato che dice che sono stati inutili e fallimentari. Poi altra cosa è ragionare in termini seri di come si deve procedere sulle espulsioni, di come si deve fare accordi con i paesi di provenienza per fare i rimpatri. Altra cosa è ragionare su come si deve accelerare anche l'espulsione di coloro che hanno commesso reati. Ma parlare genericamente di clandestini, cioè di persone irregolari, che in Italia sono centinaia di migliaia purtroppo, e di accostare questo ai scie è un cortocircuito che non funziona e i scie appunto hanno già fallito anche sotto il profilo dei diritti umani perché ci finisce ogni tipo di persona che si ritrova, a causa ancora della bossi fini, irregolare sul nostro territorio. Quindi il tema è molto più complesso e mi pare che in questo modo noi rischiamo invece di inseguire solo le butade di Salvini e di qualcun altro che dichiara che si può risolvere il problema rimpassognando tutti dall'oggi al domani. Sono racconti che si fanno a veglia, che non è governo serio delle cose. I niti apprezzo che faccio un giro con i paesi di origine per fare degli accordi, questa è una questione seria. I rimpatri si fanno solo se ci sono accordi con i paesi di origine, se c'è una politica. I scie sono per tutto il paese capaci di accogliere 700 persone. Non so se mi spiego. Ripeto, 700 persone. Allora, che senso ha? Sono qualcosa come 430 mila gli irregolari. Chi lavora e perde il lavoro può diventare immediatamente irregolare. Chi non ha un certo tipo di reddito può diventare immediatamente irregolare. Non riusciamo a combinare la nostra programmazione di richieste di lavoro con la presenza di immigrati che finiscono per essere irregolari. Abbiamo davanti a noi la prospettiva che i cosiddetti diniegati, il 60% di coloro che sono arrivati dal mare, si ritrovino immediatamente irregolari. Ora, porre il problema dei scie che hanno già fallito, mi pare che proprio è cominciare dal punto sbagliato, e significa soltanto inseguire l'ideologia xenofoba che non risolve problemi della Lega, di Salvini e di altri che purtroppo cercano di raccontare balle alla gente. Però Matteo Biffoni a Radio Anch'io con mille paletti, con mille limiti, con mille sulla temporaneità, ha detto comunque sia i scie non sono totalmente contrari, ha detto. Ma io invece sì. Se li vuole nel suo comune, puoi prenderli nel suo comune. Ma comunque io credo che se si riferisse, perché io ho letto quello che dice Matteo Biffoni, si riferisce al fatto che i scie si possono, o si dovrebbero a suo parere utilizzare per quanto riguarda persone che sono state fatte oggetto di accuse penali, di reati, mi pare si sia espresso così, che è un'altra materia rispetto a come invece viene prospettato. E poi comunque io non sono l'interprete, l'ermeneuta del pensiero di Biffoni, mi scuserà. Ci dovrà essere un momento di confronto con Mennite? Qual è la sede, la conferenza statica di Mennite? Ma è un po' che lo chiedo, poi fanno tutto come gli pare, poi dopo però non possono venirci. Intanto io credo che a far come volevano loro si sarebbe avuta anche in Toscana quei centri da 1.400 persone che avete visto. Ci sono nel Veneto del leghista, mio collega, il quale adesso plaude a Mennite, perché questo è il punto. In Puglia ci sono i cosiddetti cara, altra roba che fa inorridire, che genera tensioni, pericolo, che è contrario ad ogni principio. Io sono per un'accoglienza ordinata che ponga problemi di sicurezza, che faccia lavorare queste persone, che sia diffusa sul territorio, ma le questioni vanno affrontate, credo, con serietà e con impegno. Se avessimo dato retta a certe sollecitazioni che ci venivano dal Ministero degli Interni, avremmo avuto anche noi, magari da queste parti, un bel accampamento con un migliaio di persone. Noi ci siamo battuti, lavorando anche il sabato e la domenica, per mettere 10 persone da una parte, 10 da un'altra, da un'altra parte ancora. Ci dessero la possibilità di obbligare queste persone a fare un lavoro e un'attività di poche ore al giorno, già funzionerebbe diversamente anche nell'opinione dei cittadini il tema dell'accoglienza. Terzo, bisogna rivedere le leggi che consentono di irregolarizzarsi, perché in un paese non si può ottenere 450 mila irregolari o forse qualcosa di più. Vuol dire costituire una riserva di mano d'opera disponibile a tutto, allo sfruttamento, disponibile a prestarsi per la criminalità. E questo è il vero tema che dovrebbe essere affrontato. I scie, ripeto, sono al momento capaci di accogliere 700 persone. Di ogni tipo ci può finire una mamma con un figlio, come ci può finire il più grosso delinquente. E ci sono denunce, non fatte da Enrico Rossi, ma da commissioni parlamentari del Senato che dicono che non si rispetta al minimo i diritti più elementari delle persone. Ora, se si vuol ripartire di lì, si riparta di lì, non mi avranno dalla loro parte, perché non sono d'accordo. Alfano le ha riconosciute queste cose? Alfano ha fatto quello che ha fatto. Fermiamoci qui.